La bomba ha una potenza abbastanza importante, la raggio d'azione è di circa 1850 metri. Grazie alla struttura che è stata realizzata dagli uomini dell'esercito in collaborazione con i tecnici del comune di Palermo siamo riusciti a ridurre il raggio di sgombro da 1850 a 400 metri, appunto per evitare di evacuare più gente rispetto a quella che è stata evacuata in questa giornata.